Tra minuti dedicati a Silvano d'Orva, mi trovo qui proprio dall'inizio del ponte, il ponte sull'Orba, che è scritto ponte sull'Orba chiuso per lavori di manutenzione, ma non è un giorno, è già parecchi mesi e tutti i cittadini di Silvano d'Orba dicono ma quando sarà finito questo ponte? Facevamo il massetto di calcestruzzo con delle fibre particolari, fatto maturare il calcestruzzo, passavamo a fare l'impermeabilizzazione e successivamente l'abitumazione del ponte per poterlo aprire. Tutto questo era legato alle condizioni meteoriche perché l'impermeabilizzazione non può essere eseguita se abbiamo una temperatura al di sotto di 5 gradi centigradi. Dato che purtroppo la settimana scorsa e parte anche questa, queste condizioni sono abbastanza avverse, inevitabilmente per colpa di nessuno i tempi speriamo lo stesso di rimanere in quelli stabiliti, ma potrebbero slittare di qualche giorno, ma è soltanto il buon Dio che ci regola le condizioni meteoriche. Io ho visto però che il ponte è già tutto incementato, stanno già facendo il marciapiede per l'attrazione meteorica. Certo, certo, certo. Il ponte è tutto incementato, dobbiamo fare semplicemente l'impermeabilizzazione della parte in cemento che lei ha visto e sopra il bitume, dopodiché è finito. Perfetto, allora noi daremo poi notizia al nostro pubblico quando sarà finito perché tutti l'aspettano, perché sa, è un passaggio importantissimo soprattutto per gli abitanti di Silvano o quelli di Rossi. Non lo so, però lei deve sapere anche un'altra cosa, non so se gli abitanti lo sanno. Dica. Quel ponte lì, la provincia, non se l'è mai voluta collare, pur essendo un ponte che collega due strade provinciali, il ponte è di proprietà chissà perché del comune di Silvano d'Orba. E il comune di Silvano d'Orba si è dovuto sbattere un sacco per trovare i soldi per metterlo a posto. Fortunatamente li abbiamo avuti, ma abbiamo avuto anche queste, diciamo così, problematiche meteoriche che c'è. Cosa dirvi, meglio di così abbiamo avuto la voce viva di chi ha progettato e sta mettendo a posto il ponte, quindi speriamo che questo ponte apra il più presto, ma noi vi teremo informati logicamente. Ci vediamo nei prossimi tre minuti. Ciao!